Parliamo di Ant-Man and the Wasp Quantumania, ovvero il miglior film della fase 5, e anche il peggiore, essendo l'unico film della fase 5. Lo dico ormai in qualsiasi recensione dell'ultimo periodo, devo essere sincero, avevo tantissimo hype per Ant-Man and the Wasp Quantumania, lo attendevo tantissimo, anche se con le prime recensioni, con i primi pareri, le mie aspettative si erano calate abbastanza. E forse è stato questo, a aiutarmi durante la visione in sala, l'ho visto il 15 febbraio all'uscita, alla prima proiezione all'Ucicinema, ma sto registrando solamente adesso per diversi motivi che ho spiegato su Instagram, e per questo vi invito a seguirmi anche su quel profilo, tanto il pensiero di Andri, mi chiamo anche lì così, ci sono anche gli altri miei social in descrizione oltre Instagram, come per esempio Letterboxd, dove ho già scritto, proprio il 15 febbraio ho scritto una mini recensione veloce veloce di Ant-Man and the Wasp Quantumania, quindi potete seguirmi su tutti i social che volete, i link sono nella descrizione, lo ripeto per l'ennesima volta, assieme ai link soliti come Pampling, il Fantasia Store. Tornando però ad Ant-Man and the Wasp Quantumania, che chiamo così solamente perché è uscito con questo nome, ma lo identifico più come un Ant-Man Quantumania o, ancor peggio, un Kang Quantumania. Ne parliamo magari dopo, questa recensione sarà divisa in una parte senza spoiler iniziale, una parte spoiler finale, dove mi concentrerò di più sulle post-credit e qualcosina all'interno dello sviluppo del film. Fatto sta che appunto, sinceramente, questo film l'ho visto più come un Kang Quantumania. Sarà che magari Ant-Man non è mai stato così tanto apprezzato dai fan dell'MCU, tanto che siamo quasi arrivati a non avere neanche un terzo film sul personaggio, se non fosse stato per qualche tweet e qualche avanzamento da parte degli stessi addetti ai lavori, come il regista Peyton Reed oppure Paul Rudd. Non avremmo visto nemmeno Ant-Man and the Wasp Quantumania, possibilmente. Per alcuni magari sarebbe stato meglio. Però, sinceramente, chiudendo al più presto quest'intro e passando proprio alla recensione, a me il film non è dispiaciuto al 100%. Forse perché appunto avevo abbassato tantissimo le aspettative sentendo alcuni pareri prima della visione. Tralasciando il fatto che la Wasp del titolo in questo film sia totalmente inutile, fa due cose in croce e, sinceramente, è un personaggio abbastanza odioso, anche se vengono presentati diversi personaggi che per alcuni sono stati odiosi, per quanto riguarda me, almeno Stature. Non è stata chiamata così in questo film, si chiama ancora Cassie Lang, però il personaggio è quello e Stature per me non è così antipatic come in molti dicono, ma sicuramente ha gli stessi stilemi di molti personaggi teenager inseriti all'interno dell'MCU nell'ultimo periodo. A me comunque Ant-Man è sempre piaciuto come personaggio, Paul Rudd mi diverte tantissimo, si vede che anche lui si diverte tantissimo ad interpretare Ant-Man, ma in questo film l'ho visto un po' più da parte. Per concentrarsi di più sulla storia di Kang, che io ho sempre chiamato Kang, tra l'altro, forse perché, appunto, ripeto, non c'è mai stato tutto questo grande apprezzamento sull'uomo formica. E magari volevano concentrarsi di più sull'approfondire, tra virgolette, per quanto hanno approfondito Kang, visto che era già stato introdotto in Loki, nell'ultimo episodio della prima stagione di Loki, ma era assolutamente un Kang, un Kang, diverso da quello che avremmo visto, che abbiamo visto anche in questo Ant-Man and the Wasp Quantumania e che vedremo in futuro, perché Jonathan Major si interpreterà diverse varianti dello stesso personaggio. Non vi dirò, ovviamente, se tornerà la variante che abbiamo visto in questo film, oppure no, perché, ripeto, la recensione si dividerà in due parti, ma a me, tutto sommato, il Kang di questo film non fa così tanto schifo come ho sentito dire. Ok, sì, magari essendo appunto il main villain di queste tre fasi, di questa saga, la multiverse saga, è un po' una macchietta, sembra molto uno di quei villain da una botta e via, passatemi il termine, perché magari anche questo tipo non sarà la variante definitiva, non avremo questo tipo di personaggio con il Kang definitivo, con il Kang più cattivo, anche se ci sono alcune frasi che, alcuni dialoghi in questo film che mi hanno fatto pensare a alcuni buchi, alcuni problemini che avremo in futuro. Però, ripeto, il Kang di questo film mi è piaciuto, ma mi ha dato la sensazione da villain di singolo film, come un killmonger. Non mi ha dato assolutamente la sensazione di un Thanos, anche perché non vuole dare al momento quella sensazione, nonostante alcune anticipazioni. E altre cose che comunque noi già sappiamo fin dal luglio 2022, ovvero l'annuncio di The Kang Dynasty e di Secret Wars. Magari poi Kang sarà solo il villain di The Kang Dynasty, The Kang Dynasty a questo punto, verrà sconfitto in quel film, verranno sconfitti in quel film e poi in Secret Wars ci saranno, o ci sarà un altro villain, potrebbe anche essere così. Ma vedremo, questo non ci toccherà fino al 2026 o anche più in là, visto che è notizia di oggi, sto registrando alle 23 del 17 febbraio, è notizia di oggi che Captain Marvel 2, o The Marvels come volete chiamarlo, è stato rimandato al 10 novembre, questo perché Kevin Feige vuole concentrarsi di più sulla qualità, almeno così sembra essere, infatti anche le serie di quest'anno del 2023 saranno solamente due, le serie in live action, ovvero Secret Invasion, che dovrebbe arrivare a breve, spero, e la seconda stagione di Loki, se non contiamo poi X-Men 97 che arriverà comunque anche quest'anno. Speriamo che sia appunto una manovra per concentrarsi di più sulla qualità che sulla frequenza, sulla quantità, e vedremo appunto il futuro. Tornando però ad Ant-Man and the Wasp went to Mania, Kang non è l'unico villain del film, abbiamo anche Modok, non mi ricordo assolutamente mai in nessuna trasposizione quale sia l'acronimo, il significato di questo acronimo, però è un acronimo, non dirò assolutamente nulla riguardo questo personaggio, se non che schifo, assolutamente orribile. Come si vede nei trailer e nel film, e soprattutto come viene chiuso il personaggio, terribile davvero, una delle cose più brutte dell'intero MCU, e non sto scherzando assolutamente, alcuni dialoghi tra lui e Cassie Lang sul finale, dialoghi proprio di chiusura del personaggio che mi hanno fatto quasi, no ma che dico quasi, mi sono proprio cringiato sentendo parlare quel coso, perché chiamarlo personaggio è un po' difficile, un po' arduo, quel coso parlare e dire queste cose. Ormai il tono dell'MCU si sta allargando sempre di più al fumettoso, al cringe, possiamo chiamarlo, non cringe, all'esagerato, al appunto molto in stile fumetto, non si spaventano più di presentarci elementi da comic, da qualcosa di molto molto sopra le righe. Non vi dico tantissimo, ma anche solo la Omnipotent City di Torloventander, ecco, qui c'è una scena molto simile a quel momento, vi dico solo broccoli, per chi ha visto il film, non è importantissimo naturalmente. E Modok fa parte di queste cose, anche se forse alcune cose non le avremmo viste nemmeno in un fumetto di Modok, o comunque di una storia in cui compare Modok. E poi la CGI di Modok, ma come in realtà la CGI di tutto il film, pessima davvero, c'è una scena in cui ci sono diversi Ant-Man, c'è nel trailer, non sto qui a spoilerare cose che non sono già state fatte vedere, nel trailer si vedono tanti Ant-Man, ecco, quella scena è terribile, soprattutto uno dei personaggi, uno degli Ant-Man, sempre comunque Paul Rudd, si vede assolutamente appiccicato sullo schermo, si vede palesemente il green screen dietro di lui, è terribile. Le luci tutte sballate tra un personaggio e l'altro, non c'è stata nemmeno una color correction buona, assolutamente nel lato tecnico terribile. E magari anche per questo che hanno rimandato The Marvels, che ci saranno meno serie, si concentreranno magari di più sul lasciar vivere i WFX artist, perché probabilmente è uno dei lavori peggiori da poter fare nel mondo del cinema, quando ti ingaggia la Marvel o la Disney in generale, almeno. Ho già parlato di Cassie, qui non è un segreto, diventa Stature, anche se il nome non viene mai detto, arriverà ad essere sicuramente quel tipo di personaggio, probabilmente entrerà all'interno dei New Avengers, dei Young Avengers, non lo so, magari un altro gruppo, non penso rimarrà a fine a se stessa, anche perché Caterine Newton è apprezzata molto dalle persone nell'ultimo periodo, magari qualcosina di buono riesce a farla, non sembrare antipatica per lo più, visto che molti si sono lamentati di questa cosa, io ripeto, non ho avuto eccessivamente questa sensazione, anche se effettivamente ci sono dei momenti in cui potrebbe sembrare una rompipalle, però tutto sommato comunque non mi ha dato fastidio, non mi ha dato così tanto fastidio. Ripeto ancora una volta che il titolo è Ant-Man and the Wasp Quentumania, e non solo io l'avrei intitolato Kang Quentumania, o Kang, semplicemente The Origin of Kang, Ant-Man così all'angolo, ma di Ant-Man non ha letteralmente nulla, non del personaggio di Ant-Man proprio, delle storie che abbiamo visto finora del personaggio, sembra semplicemente uno Star Wars, un Guardiani della Galassia, non lo so, non mi è sembrato di aver visto un film di Ant-Man. E ripeto, per quello che vuole raccontare, una trama molto, molto semplice, la durata è eccessiva, e si sente soprattutto nella parte centrale, quando ti vengono presentati alcuni popoli, tra l'altro personaggi che vengono introdotti così a caso, non vengono per nulla presentati, non vengono introdotti quei personaggi, sono lì, sono delle copie palesi di altri personaggi, per esempio c'è una ragazza, non dico altro che, è palesemente la copia di Valkyria, e basta, serve solamente a quello, non sai chi è, non sai perché è lì, non mi ricordo nemmeno come si chiama, ma non me lo ricordavo nemmeno durante la visione, ed è un problema, poi altri personaggi, altri, ahi mi sono fatto malissimo, altri alieni, sembrano appunto alieni, e sembra strano vederli all'interno di un microverso, del genere, sono palesemente dei concept presi da Star Wars, con tanto di maschere che all'inizio fanno sembrare quei personaggi, magari dei, dei popoli stessi della galassia di Star Wars, anche i modi di parlare, tutto, c'è persino la cantina, poi il personaggio di Bill Murray, che ero curioso di vedere, Krilar, questo, questo sindaco di questa cittadella, ero curioso di vederlo, è alla fine abbastanza inutile come personaggio, e lui sì, lui, lui mi ha dato molto fastidio. Per concludere, prima di passare a parlare senza spoiler del finale, delle post-credit, c'è qualche forzatura sul far finire questo film, almeno c'è un qualcosa che diventa qualcos'altro, non so come potrei dirlo senza fare spoiler, ed è molto strano, perché non viene assolutamente spiegato, a parte comunque diversi Deus Ex Machina, che vengono messi lì, perché forse non c'era altro modo per far finire il film, o gli scontri erano abbastanza sbilanciati, anche se alcune scene d'azione mi sono comunque piaciute, compresa quella corpo a corpo, che si vede già nel trailer, non sto spoilerando nulla, anche perché il trailer è stato abbastanza spoileroso, tralasciando il fatto che c'è una storyline che non viene presa nel film assolutamente, ma questa è un'altra storia. Una cosa è sicura, di Ant-Man ci sono solo l'inizio del film e la fine. La fine in cui c'è un momento molto inquietante, ok, questo devo ammetterlo, mi ha inquietato come parte, cosa che avrei sperato per la prima post-credit, e invece ho riso, ma delle post-credit parleremo a breve, senza spoiler, poi dopo con spoiler, però davvero, se avete visto il film, quella scena, quella scena che serve ad inquietare per il futuro dell'MCO e dell'universo, degli universi, del Marvel Cinematic Universe, per quanto mi riguarda ha funzionato. Passando ora però alle post-credit, la prima è ridicola, per quello che presenta dovrebbe essere importantissima, e soprattutto inquietante, come ho già detto, ma è presentata in modo orribile. Non capisco per quale motivo abbiano voluto farlo in questo modo, non sto parlando degli elementi visivi, ma quanto più, ho sentito gente lamentarsi anche degli elementi visivi stessi, ma quanto più per come vengono presentati alcuni elementi, non so come dirlo senza spoiler, alcuni suoni che si sentono, ecco, mentre la seconda post-credit mi ha giusto un po' haipato per un altro prodotto. Non mi sarei aspettato la seconda post-credit, non mi sarei aspettato alcune cose, alcune comparse. Penso che se siete andati anche voi alla prima visione del film, alla prima proiezione del film, comunque, abbiate sentito le grida che ci sono state durante la seconda post-credit, e le risate, credo, durante la prima, cosa che io ho sentito. Ah, ecco, comunque, il film è divertente, visto che stavo parlando di risate, in momenti sbagliati come nella prima post-credit. Durante il film ci sono diverse scene divertenti, che funzionano, altre sono un po' cringiotte, però ho riso, almeno questo è sicuro, è un punto a favore di questo terzo capitolo. Comunque, i film di Ant-Man sono sempre stati molto sul comedy, quindi ci può stare. Anche questo Quentumeni ha funzionato. Ci sono personaggi un po' indigesti, che dovrebbero fare ridere, ma rimangono solo un po' sullo stomaco, in stile Korg. Modok non ne parliamo, sia volontariamente che involontariamente comico, in entrambi i modi, per i motivi sbagliati. Ma ragazzi, se ancora non avete visto il film, vi invito a lasciare questo video, perché gli spoiler inizieranno fra 3, 2, 1. Come prima cosa vorrei parlare di Kang in questo film, perché in teoria dovrebbe essere morto questo Kang, viene risucchiato all'interno del nucleo, che abbiamo visto per tutta la durata, comunque è l'oggetto importante da rubare, in teoria è rappresentato come un furto, ma non è così tanto un furto quello che viene proposto a Scott. Viene risucchiato all'interno di questo nucleo e dovrebbe essere morto, però poi abbiamo anche scoperto che il calabrone d'Aren non è morto durante il primo film, avendo comunque più o meno la stessa fine, sì, è entrato all'interno del regno quantico, ma comunque si è distrutto un po' tutto, tanto da diventare una testa enorme con le braccine corte, orribile la scena della creazione di Modok con quel culetto piccolo che fanno vedere, mamma mia, però voglio credere che questo Kang sia morto. Nonostante questo, la scena appunto che mi aveva inquietato è assolutamente il momento in cui Scott, durante la sua camminata di giorno, comunque che saluta la gente, in cui saluta la gente così per strada, si ferma un attimo a pensare ma l'abbiamo sconfitto? E se l'abbiamo sconfitto vuol dire che si avvererà quello che ha appena detto, che ci ha detto appunto, ci sarà un casino, la fine dei mondi, tutto, ok, è quello che succederà, lo sappiamo già tutti, noi fan, noi esterni all'MCU, che ci sarà davvero la grande incursione, tanto da far esplodere i diversi mondi, non si sa quali mondi, ma esploderanno universi, e sì, è più o meno colpa di Ant-Man, anche se, credo che, se l'avessero fatto uscire dal, dal, dal regno quantico, non sarebbe cambiata la situazione, anzi, ci sarebbe stata un'altra versione di Kang, volta a conquistare tutto, e a distruggere tutto, quindi, alla fine, l'obiettivo è quello, non cambierebbe nulla. E quella scena, l'hanno messa apposta, perché sappiamo, almeno la gente informata, la gente all'interno delle news, degli annunci, e robe varie, sa cosa arriverà fra qualche anno, quindi, l'hanno messa apposta per insinuare quel, quel senso di inquietudine, e a me ha funzionato. Avrei voluto avere quella stessa sensazione, quello stesso senso, durante la prima post-credit, dove vengono, dove ci viene presentato il concilio dei Kang, con tantissime, infinite versioni di, di Kang, appunto, del main villain, dei main villain di questo, di questa nuova, di questa nuova saga, ma perché presentarli vestiti in quel modo? Ok, sì, sono versioni alternative, c'è Ramatut, c'è, mi pare di aver visto anche una versione lucertola, a un certo punto, comunque, il problema per me non è quello, li hanno presentati vestiti da pagliacci, la maggior parte, ma non, per me non è il problema maggiore, ma perché far urlare in quel modo, tanto far sembrare scimmie, quei Kang, sono personaggi che dovrebbero inquietare, almeno un minimo dovrebbero far paura allo spettatore, sapendo quello che succederà, perché farli gridare in quel modo? Io mi sono messo a ridere come la maggior parte della gente in sala, che era rimasta un po' sbigottita dal, da quello che stava vedendo, perché non puoi presentarmi una cosa del genere in questo modo. Siamo passati da un Age of Ultron, che nella post-credit spoiler, comunque, anticipa un Thanos molto possente, comunque, che dice, allora farò da solo e prende il guanto, anche se poi è una post-credit che viene retconnata in Avengers Infinity War, a questo, che dovrebbe anticipare il Avengers, il nuovo Avengers, e siamo passati da Thanos a milioni di versioni del main villain, che fanno le scimmie, non lo so, non ricordo nemmeno il verso che facevano, ma ho riso, e non era l'obiettivo, penso, della scena, spero, perché se era l'obiettivo, seri problemi. Nella seconda post-credit, invece, abbiamo la comparsa di Loki e di Mobius, penso sia direttamente una scena presa dalla seconda stagione, quindi, è stato già detto da Kevin Feige, che nel futuro avremo diverse versioni di Kang, anche nello stesso prodotto, quindi, penso che già in Loki vedremo più versioni di Kang, nei vari episodi, non ci sarà solo una versione, anche perché qui sembra esserci un Kang, un po' in stile Nikola Tesla, quindi uno scienziato che, in realtà, viaggiando nel tempo, ha avuto la possibilità di, magari, sapere qualcosa in più, e per questo abbiamo questa versione molto, molto importante nel passato, tanto che Loki, dice a Mobius, sì, stai tranquillo che, sembra simpatico, ma in realtà, è una brutta persona, ecco, questa scena, per quanto mi riguarda, ha funzionato, mi ha messo un po' di hype, nei confronti di Loki 2, è la serie che attendo di più, almeno quest'anno, sperando che arrivi nel periodo previsto, ovvero l'estate, dovrebbe arrivare a luglio, agosto, comunque, in quel periodo, io comunque dal film mi sarei aspettato la morte di uno dei personaggi principali, tralasciando appunto Kang e Modok, mamma mia la sua morte, il fatto, mi sarei aspettato anche una finta morte come in Deadpool 2, ma per Deadpool è un po' giustificabile, come, ok, non sto morendo realmente, sono ancora vivo, però state ancora attorno a me per salvarmi, ma il modo in cui fanno morire Darren, che ha cambiato totalmente caratterizzazione, ora è diventato Modok, ragazzi, mi è terribile, perché far prendere al personaggio questa svolta, perché fargli dire le cose che abbiamo sentito per tutta l'ultima parte, per quale motivo, già il personaggio è orribile a livello di CGI, è proprio di estetica, ma perché renderlo così stupido e così brutto a livello concettuale proprio, terribile, però comunque, ripeto, mi sarei aspettato la morte o di Janet o di Hank, invece nessuno dei due è morto, naturalmente non sono morti né Ant-Man né The Wasp, anche perché far morire The Wasp dopo che è praticamente stata inutile per tutto il film, sarebbe stato un po' eccessivo, ma non mi aspettavo assolutamente la morte di Ant-Man, era già prevedibile e non sarebbe morto. Mentre per quanto mi riguarda sul finale è stato un po' troppo semplice il modo in cui, comunque, torna tutto a posto, perché sì, le formiche sono il Deus Ex Machina di cui parlavo prima, il fatto che siano queste formiche super intelligenti, mamma mia, sono arrivate per salvarci, e praticamente è quello che fanno, lo sconfiggono loro Kang, loro levano praticamente i poteri allo scudo, tutte le robe, sì, c'è un Ant-Man gigante dietro, anche una Stature gigante dietro, però, alla fine le formiche sono quelle che aiutano a salvare il tutto, ma anche il fatto che sia Janet che Hank che Cassie, ma anche Hop all'inizio, tornino nel mondo reale con questo macchinario di Cassie che in realtà non era un portale all'inizio, però è diventato un portale così debotto, senza senso, e Ant-Man rimanga lì per sconfiggere corpo a corpo Kang, e a me quella scena è piaciuta, poi arriva anche Hop, una delle pochissime cose che fa in questo film è, appunto, portare Kang ad avvicinarsi e ad esplodere assieme al nucleo, con gli oggettini lì con, come si dice, con quelli che fanno ingrandire e rimpicciolire le robe, penso abbiate capito, però ho apprezzato il fatto che non ci sia stato un oddio e Hop e Scott sono rimasti nel regno quantico, come faremo a farli uscire? Ok, meglio che sono tornati tranquillamente a casa senza problemi, perché sarebbe stato ripetitivo, come in Avengers Infinity, come in Avengers Endgame, poi alla fine in realtà c'è anche tutto il problema, ma è il regno quantico, tempo, sono cose che ormai non tengo più in conto, perché Janet è invecchiata nel regno quantico, sono passate anche lei, anche per lei 30 anni, invece sarebbero dovute passare 30 ore, da quello che viene detto da Scott in Avengers Endgame, perché per loro sono, per la gente fuori, per Captain America, per Black Widow, per Iron Man sono passati 5 anni, per Scott all'interno del regno quantico intrappolato, lì sono passate 5 ore, quindi perché Janet è rimasta, è uscita dal regno quantico invecchiata di 30 anni? Ok, qui, non mi ci metto di nuovo, perché sono discorsi che si fanno dai tempi di Ant-Man and the Wasp Quentumania, o meglio di Avengers Endgame, visto che è da lì che viene spiegato il tutto, però davvero minima citazione a questo fattore qua, in Ant-Man and the Wasp Quentumania, non è fregato niente a nessuno, magari loro sono arrivati nel mondo reale dopo 5-6 anni, passando lì 6 ore, sono cose che hanno totalmente lasciato da parte, e non si fa così. Dare almeno una spiegazione, ok, magari all'interno della cittadella, all'interno di Chronopolis, non viene mai nominata come Chronopolis, però dovrebbe essere quello, non scorre allo stesso modo il tempo, essendo Kang un personaggio che con il tempo ha a che fare molto, e quindi è per questo che sono passati 30 anni nel mondo reale, 30 anni anche nel Regno Quantico, o anche loro che in questo momento sono passati lì, sono stati lì per 6 ore, nel mondo reale sono passati 6 ore, sono passate 6 ore, parlate, parlate per favore, ditele le cose, e possiamo fare tutti pace tranquillamente, basta solo scrivere bene qualche rigo in più, qualche dialogo tra i personaggi che hanno la possibilità di parlare in questo modo come Kang. Nel mio mondo, nella mia città creata da me, governata da me, il tempo scorre come nel mondo reale, tanto ha il potere, sì, è intrappolato lì a causa dell'esilio da parte degli altri Kang, ma i poteri ce li ha. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi, io vi ricordo che in descrizione trovate i link importanti tra i miei social, come Instagram, TikTok e Letterboxd, trovate anche i link di Pampling e del Fantasia Store con rispettivi codici, il pensiero 4 per avere un paio di calze gratis su Pampling, e Andri5 per avere il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati del Fantasia Store, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!